Dunque, voi non siete pronti a tutto quello che sto per mostrarvi, ma vi dico questo perché nemmeno noi eravamo pronti a ricevere un pacco così meraviglioso, pacco che ci ha inviato una di voi che si chiama Maria Cristina. Guardate qui, che meraviglia! Allora, Maria Cristina ha un'impresa alimentare domestica, ecco stavo già sbagliando, vi lascerò poi tutti i riferimenti in descrizione, andate a dare un'occhiata su Instagram, le meraviglie che fa, è bravissima a decorare e oggi ci ha deliziato con tutti questi biscotti che assaggeremo sicuramente dopo pranzo con il caffè, mamma mia, hanno un profumo pazzesco e lei anche su Instagram si chiama La Casa di Frolla, nome che trovo bellissimo e qua per la gioia di Luca, ma anche mia, però per me devo comprare tanta panna, perché lo sai che a me piace pannosissima, ci ha mandato il preparato per la cioccolata calda, ha un profumino delizioso, poi ci ha inviato questi mattarelli che sono stupendi per decorare la frolla, questo perfetto per Pasqua, questa decorazione bellissima, questa saponetta alla ciliega, anche questo un profumo, però per casa nostra è proprio perfetta, e poi un po' di cose per tenerci al caldo, questa bella tovaglia, adesso devo vedere bene la dimensione, questa ho toccato il materiale, starebbe bene anche fuori, però mi sa che è un po' grande, devo vedere, però questo ecco, è tutto meraviglioso, però questi due piatti devo dire occupano un posto speciale nel mio cuore, li appenderemo domani insieme, perché oggi purtroppo non ce la faccio, e perché dico che occupano un posto speciale? Perché lei mi ha scritto che questi due piatti appartenevano alla nonna e che ha deciso di condividerli con noi, è un gesto a mio avviso bellissimo, di una generosità indescrivibile, e sapete quanto io sono legata alle nonne, quindi leggere questo mi ha davvero emozionata tanto tanto tanto, quindi grazie a Maria Cristina, veramente questo è il pensiero più bello che potessi farmi. Ho appena tirato fuori dal forno l'impasto per la pizza, che preparo oggi per pranzo, e direi che... Stai per esplodere! L'hai invitata abbastanza, eh la ragazza? Stavo per commettere un furto, senza saperlo, allora non mi ero accorta che Cristina, Maria Cristina, ha diviso i pacchetti per noi e per le mie nonne, l'ho vista adesso, stavo per aprire quello destinato a nonna Rosina, allora questi pacchetti li nascondo, e appena riesco a salire li porto sicuramente alle nonne, purtroppo questa settimana non riesco ad andare, spero la prossima di riuscire a salire, ma resteranno lì al sicuro, e noi adesso con il caffè assaggiamo questi che sono destinati a noi, meno male che ho visto, se no, povere nonne! Tra l'altro all'inizio del video si vede il palmo della mia mano, e mia nonna mi ha sempre detto che chi ha il palmo come me, pieno di righe, è perché è destinato a una vita travagliata, che c'è a bello liscio, invece ha una vita tranquilla, fai vedere il tuo palmo, vabbè, bello liscio rispetto al mio! Travagliato! No, no, il tuo è bello liscio perché hai trovato me! Ah, quindi io sono... E tu sei il mio travaglio! Ah, vero! Eh, perché qua se no i conti non tornano, io ho la vita travagliata con Luca, guardano andate qua, è Luca, semplice, beh, una vita semplice con me, direi che le cose proprio finono! Io ho uno bianco per il colore, grazie, e tu hai il cioccolato, che belli, guarda lo stampo, che meraviglia lui, sono bellissimi! Mmm, anche buonissimi! Mmm, buoni! Molto, molto, posso sbagliare un peccettino? Sbagliare un peccetto! Mmm, molto buono anche sa! Le preferisci? Cioccolato! Eh, cioccolato! Non è incafata questa domanda! Lua bianca invece! Noi stiamo continuando mangiare, come, dei golosastri, come sempre! E scavando nel sacchetto, guardate che bello stampo abbiamo trovato con i cervi! È bellissimo! Ho appena messo sulla cena, ho guardato un pezzettino della replica di Amici, ehm, è un programma che non seguo con grandissima costanza, ma ogni tanto mi metto qua e là le repliche, magari mentre pulisco, mentre cucino, forse anche in un video di pulizie l'avete visto, quando pulito in tarda serata, mi sembra, se non ricordo male, e c'è un motivo per cui guardo questo programma e mi ricollego, perché si ricollega benissimo proprio al pacco che ho ricevuto oggi da Maria Cristina. Dovete sapere che nella sua lettera mi ha raccontato che lei ha, prima di buttarsi in questa attività, faceva tutt'altro, quindi ha cambiato in modo radicale la sua vita, seguendo, assecondando una sua passione, tra l'altro lei sceglie gli ingredienti con una cura incredibile, quindi il prodotto che offre non è solo buono di gusto, ma è anche proprio buono come materia prima, perché ci mette un'attenzione molto particolare, e quindi lei si è buttata da un'attività all'altra, cambiando totalmente la sua vita. E quando io vedo queste storie, rimango vi giuro affascinata, mi trasmettono una motivazione incredibile, e lo stesso vale con amici, quando vedo delle persone che si impegnano al massimo, investono tutte le loro energie per raggiungere uno scopo, per alimentare la propria passione, mi contagiano con tantissima motivazione. e niente, trovo tutto questo molto bello, molto affascinante, e nulla, piano piano, mi sto sciogliendo qua sul tavolo, non per la stufa, ma per un po' di stanchezza. Tra l'altro ho fatto uscire i ragazzacci, adesso sento che devono rientrare, qua c'è steso con me, c'è un altro corpicino, no lui non è stanco, sono io solo quella qua, sempre più accasciata, adesso però mi devo alzare perché ho tutto sul fuoco, e ho anche i ragazzacci fuori al freddo, e questo vale principalmente per Thor. Allora, è il mattino del giorno dopo, oggi sarò da sola tutto il giorno, e per questa ragione stamattina me la sono presa veramente con calma, mi sono svegliata sempre sul presto, ma perché lo sapete, sveglia o non sveglia? io mi sveglio presto, perché sono abituata appunto, ormai quell'orario è entrato nella mia testa, però ho deciso di restare a letto ancora un bel po', mi sono alzata adesso, sono circa le sette e mezza, e sono qua fuori in pigiama, solo perché sono uscita con i cani per controllare le capre, e per salutarvi, ma adesso rientro subito dentro al calduccio, e faccio colazione, mentre faccio colazione, do una seconda possibilità a mare fuori, questo perché ho visto che sta spopolando, anche tanti di voi me l'hanno consigliata, però dovete sapere che un po' di tempo fa, io avevo iniziato a guardarla, avevo visto i primi dieci minuti, non mi avevano coinvolta, e quindi l'avevo lasciata lì, l'avevo abbandonata, per ora, vedendo tutto questo successo, vedendo che alcuni di voi me la consigliano, mi è sorto il dubbio che magari quei primi dieci minuti, insomma, mi abbiano portato a farmi un giudizio sbagliato di questa serie, così vi ho chiesto consiglio su Instagram, e diciamo che ho notato che siete proprio divisi a metà, c'è chi la ama e chi la odia, non ci sono mezze misure, non ho ricevuto nessun messaggio in cui c'era scritto, ma sì, dai, carina, tutti messaggi del tipo, è bellissima, devi guardarla, non puoi perdertela, oppure, è tremenda, no, non la guardare, per carità, proprio messaggi molto estremi, io stamattina mentre faccio colazione, tanto su Netflix il tempo resta memorizzato, ecco, vedete, faccio vedere, ho visto questo primo pezzetto, ricomincio a guardarla, ne guarderò 5 minuti e vediamo, siamo, oppure 9, no, non so, vabbè, sì, mentre faccio colazione sono 5 minuti, però cercherò di guardare almeno le prime due puntate, per vedere un po' se mi prende e se riesco a continuare a guardarlo, oppure no. Buongiorno, allora, volevo farvi vedere... si vede poco, ma se riesco si alza di sicuro, guardate le capre quando dormono come si mettono, la prima volta che le ho viste così sdraiate al sole, non vi nego che mi sono... ecco, ti ho svegliato, non vi nego che mi sono spaventata, perché non le avevo mai viste così, e poi, guardando anche su internet, ho scoperto che le capre dormono proprio sdraiate, in quel modo, e loro amano farlo al sole, adesso Annabel si è svegliata. Nel frattempo... cosa fai, Flora, che annusi la giacca? Puoi mettertela? Dicevo, nel frattempo, io ho fatto le mie solite faccende mattutine, mi sono cambiata, e adesso vi dico come ho deciso di organizzarmi oggi. Dunque, dedicherò il pomeriggio al lavoro, mentre la mattinata, ovvero adesso, voglio dedicarla a occuparmi un pochino della casa. Vabbè, devo raccogliere i panni, ma quello penso di farlo prima di pranzo, perché prima sono andata e c'era qualcosina ancora, leggermente umida, quindi adesso c'è un bel sole, sono sicura che tra qualche ora sarà tutto asciutto. Poi voglio pulire in maniera più approfondita alcuni vani della cucina, che ne hanno bisogno, per il solito folletto che va a mettermi tutto in disordine, a spargere un po' di polvere e briciolini. No, non c'è nessun folletto, che tutte le volte mi domando, ve l'ho già detto, so, un bucchio di volte, ma... ci mettiamo lì dentro solo cose pulite, come fanno a finirci delle bricioline? Non lo so, vabbè. Comunque voglio pulire quelle parti lì, poi devo sistemare alcuni cassetti, in particolare ce n'è uno di Luca che veramente sembra che lì dentro si esplosa una bomba, perché c'è un caos incredibile, ma perché è un cassetto abbastanza piccolo purtroppo, e lì Luca ci tiene tutte le cose che usa per lavorare in giardino, nell'orto, quindi sono un po' di indumenti perché si deve cambiare molto spesso, perché suda, si sporca, quindi lo spaccio è piccolo, gli indumenti sono tanti, lui quando cerca qualcosa magari tira da sotto e le cose sopra, insomma, si piegano tutte quante, infatti l'ho visto stamattina, ho detto no, devo sistemarlo, e dovrei fare anche un po' di selezione, per quanto riguarda alcune mie cose, però non lo so se mi metterò oggi, vabbè, vedremo, e niente, questo è quanto, quindi direi di partire subito. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Come avete visto sono in cabina armadio, non avevo un gran che da sistemare, però a volte mettendo a posto i panni non li metto nell'ordine corretto, quindi oggi già che c'ero ho detto ma sì andiamo a sistemarli, e poi ho dato un'occhiata alle borse perché lì dovrei fare un po' di selezione, infatti qualcosina ho già tolto, e poi ho trovato una cosa che volevo farvi vedere, ma questa la tengo, un giorno forse riuscirò a sistemarlo, a trovare qualcuno che me la sistemi, comunque questa borsetta era di nonna Rosina, io l'ho utilizzata per tantissimi anni e ora è distrutta, cioè forse dal video sembra meglio di quello che è in realtà, è tutta rotta anche dentro, vedete, e l'avevo portata un po' di tempo fa da un calciolaio per vedere se riusciva a sistemarmene, e lui quando l'ha vista per bene mi ha detto signorina questa è da buttare, se ne faccia una ragione, io invece l'ho tenuta e spero sempre di avere poi, non so, di trovare qualcuno che me la sistemi o di avere un'idea per recuperarla, perché a parte che ho un ricordo, ma poi mi piace anche tantissimo questa fantasia qui. Allora sono scesa perché adesso passiamo alla cucina e guardatelo lì, bello comodo sulla sedia, avevo lasciato la sedia così per il gatto e ci ho trovato il cane, però non c'è un bel c'è la giù. Sì 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 Mezzogiorno spaccato, finito di far tutto. A dir la verità, dovevo guardare anche per una sistemata nell'armadio, quello in camera da letto, quello che ha dipinto Luca per intenderci, ma me ne sono proprio dimenticata. L'ho rimosso e adesso ho troppa fame per salire e guardare quello, perché voglio mangiare in poche parole, quindi lo farò un altro giorno. Tanto ho anche dopo pranzo, tanto non è che ci metto molto tempo, perché erano giusto alcune maglie di Luca che avevamo messo lì, ma che sistemando comunque in cabina armadio, visto che potrei anche appendere direttamente lì, forse sono più comode. Sì 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 Dunque Luca è tornato a casa ed è già abbastanza tardi, infatti l'avevo aspettato per appendere i piatti, ma è troppo tardi, siamo troppo stanchi, quindi abbiamo deciso di rimandare a domani. Sì 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 video